Siamo noi la famiglia Ciao a tutti, nel video di oggi Fedez in compagnia di Paloma prima di fare una passeggiata insieme accompagnano Leone e Vittoria a scuola qui però Paloma fa ancora qualche scherzetto vi lascio al video, buona visione non muori piano Paloma il mio telefono, Paloma! tu oggi sei casato di andare a scuola vero? tu oggi sei casato di andare a scuola? mi sembra un no mi sembra stai sognando di dormire fino alle 9 eh sì eh sì amore Paloma ci ha svegliato alle 6 alza la zampa bravissimo bravissimo vai, tienilo più stretto il quintaio amore, tienilo da qua da metà bravissimo bravissimo guarda ma con chi ce l'hai? è pazza è pazza la vostra sorella ce l'ha con gli umani non ho una grande idea ma non può usare le scale devi prenderle in braccio vuole bene la palomita guarda oh amore mio ma che belli che siete non mordere i capelli della vitto nuovo ufficio una bella chiesa sconsacrata evviva